L'auto della regina viaggia con Sofia Fidabile, contessa di Wessex, mostra che è qualcuno con cui il monarca può parlare, ha detto un esperto reale a Express. La regina Elisabetta II, 95 anni, ha celebrato il settantesimo anniversario della sua scesa al trono lo scorso fine settimana. La monarca ha dato il via a un anno di celebrazioni del Giubileo di Platino per onorare i sette decenni da quando è succeduta a suo padre, re Giorgio VI, come sovrano alla sua morte nel 1952. Il governo ha approvato un fine settimana festivo esteso a giugno per rendere omaggio a sua maestà, il monarca più longevo nella storia reale britannica. Mentre il paese si prepara per un anno di festa, una figura al centro dei piani reali è la contessa di Wessex, che è sposata con il figlio della regina, il principe Edoardo. Sofì, che spesso si dice sia una delle reali più vicine alla regina, piantò un albero per il Giubileo di sua maestà presso l'ambasciata britannica in Qatar. Il momento, durante il viaggio di Sofì nello stato del golfo il mese scorso, faceva parte dell'iniziativa di piantumazione di alberi della Queen's Green Canopy. L'importanza di Sofì per la regina è stata sottolineata dalla storica reale Marlene Conig. Lo scrittore e bibliotecario con sede negli Stati Uniti ha svolto ricerche sulla famiglia reale britannica per oltre 40 anni, parlando con Express.co.uk, ha indicato i numerosi viaggi in macchina del monarca con Sofì come un segno che le due donne condividono uno stretto legame. Ha detto, la regina si è fidata di lei. Molte volte vedrai a Natale, sarà lei a guidare in macchina con lei. Sofì viene spesso scelta per accompagnare sua maestà nei viaggi in chiesa la domenica e a Natale. La contessa è stata in macchina con la regina quando altri reali stanno camminando mentre la famiglia va in chiesa durante il periodo festivo nella tenuta di sua maestà Sandringham. La signora Conig ha detto che Sofì ed Edward sono i reali chiave per la regina, indicando i loro vari progetti diversi.